La questione è venuta alla cronaca, come diceva la Presidente Dallacchiani, perché sono venute sugli organi di stampa notizie che non certo sono state diffuse dall'Istituto. Mando, e qui mi permetto una chiosa personale Presidente, rimando a tutti i mittenti le accuse verso il sottoscritto verso l'Istituto di un'azione manipolata, architettata, l'azione da parte delle strutture, delle tecnostrutture che è indipendente e autonoma rispetto al sottoscritto. E' stata egregia, insieme a quella di tutte e trentamila dipendenti dell'Istituto che in questo periodo hanno dato lacrime e sanque per mettersi a servizio del Paese e pagare tutto ciò che c'era da pagare perché il Paese lo richiedeva.